Il 10% è una popolazione carmagnolese, questo a riprova del fatto che i cittadini carmagnolesi sono comunque attenti e rispettosi, ma la gravità del numero di persone che attraversano la strada è assolutamente importante. Tengo a precisare questo perché i numeri come sempre parlano, come insegna il consigliere Grosso, i valori sono importanti da tenere sotto controllo. Quindi la modalità con la quale si cerca di riportare ad un corretto rispetto delle regole della strada non significa che Carmagnola debba essere esente da tutto questo. Le persone devono rispettare i limiti di velocità. Capogruppo Quattrocchio. Io volevo dire esattamente quello che ha detto il sindaco.